Siamo qui alla Stiglato Mugello a Borgo San Lorenzo a presentarvi Fiat 500 1.2 allestimento Lange. La vettura è a 1.0 km di marzo del 2012. Evi paggiamenti della vettura, i cerchi in lega, i comandi radi al volante, il bluetooth per il cellulare, il clima automatico, l'ESP, telecomanda prechiudi, alza cristalli elettrici, Fiat 500 1.2 allestimento Lange, marzo 2012, vettura km 0 pari al nuovo, viene offerta con il pack sicurezza Stigla, un anno di furto incendio e garanzia estesa per tre anni, a 199 euro al mese. La potete vedere presso la nostra concessionaria a Borgo San Lorenzo, in Viale Giovanni XXIII, dietro al supermercato Conad, oppure su internet al sito www.stiglaonline.com. Vi aspettiamo per provarla.